Ciao a tutti ragazzi, si è Norco Verde. In questo video volevo informarvi riguardo le ricompense che i giocatori otterranno su GTA V online in questa settimana per aver prenotato l'Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a condividere i video ai vostri amici e sui vostri social, poi a lasciare un bel pollicione in su e seguirmi sui social. Trovate tutti i link nella descrizione e iniziamo subito. Poco fa sul proprio account Twitter, Tezfans, uno dei modder più affidabili della community di GTA Online, ha pubblicato questo post con scritto ricompense GTA Online per il preordine di Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition. Tutti i giocatori che giocano a GTA V online e che hanno prenotato la versione Ultimate Edition di Red Dead Redemption 2, tramite l'evento di questa settimana di GTA V online, Quei giocatori otterranno la livrea monogramma 69 per il Cangiali, poi la maglietta logo Rockstar Blackhead Out, poi lo sconto del 35% sull'Oppressor MK2, poi il 35% di sconto sul Terrorbyte più relative modifiche e componenti aggiuntivi, E lo sconto del 50% sulla Pegassi Tesseract, poi sotto al post pubblicato poco fa dal modder Tezfans, altre ricompense la prossima settimana. Perciò probabilmente queste ricompense dureranno fino alla mattina di martedì 9 ottobre, come l'evento di questa settimana di GTA V online. Se non avete ancora visto i bonus e gli sconti dell'evento di questa settimana su GTA V online, vi invito a guardare quel video, in quanto questa settimana sono presenti ottimi sconti, sconti riguardo i requisiti, Che vi serviranno per poter eseguire la maggior parte dei money glitch per duplicare auto, lascerò il link di quel video nella descrizione di questo video. Quindi detto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orkuverde tutto noi ci vediamo al prossimo video, bella!